La Juve che ha descritto Cristiano Giuntoli dovrà essere competitiva e sostenibile. Su questi due concetti il neodirettore della Juventus si è espresso nel corso della conferenza stampa di presentazione. Come vedete sono qui alla continassa, ma prima di tutto vorrei farvi ascoltare la risposta alla mia domanda in conferenza. Giovanni Albenese Sport Italia, negli ultimi anni magari dall'esterno si è fatta un'idea di cosa non stesse funzionando alla Juventus. Io le chiedo qual è il valore aggiunto che crede di poter dare subito alla struttura, cosa le ha chiesto la società, quali sono gli obiettivi nel breve, medio e lungo termine. Grazie. Onestamente io da fuori non sono un tipo che pensa ai problemi degli altri, quindi da fuori non lo so, ho aspettato di vedere certe cose, ma alla fine conta quello che faremo da qui in avanti, quello che mi ha chiesto la società e i club è quello di tornare ad essere competitivi, di tornare ad essere sostenibili perché il mondo va in questa maniera, in questo momento dobbiamo sicuramente dare un occhio ai conti e dare un occhio anche a quella che è la storia della Juventus, tornare ad essere in grande competitività con tutto il resto del mondo, in Italia e nel mondo. Chiaro che cosa posso dare? Intanto la mia storia parla abbastanza chiara, io ho fatto sei anni in un club e otto anni in un altro club, quindi sono tanti anni che faccio il direttore, ma la mia prerogativa è quella di cercare di fare tanto con quello che ho a disposizione, questo l'ho dimostrato negli anni e cerco di portare tutta la mia esperienza all'interno di questo club prestigioso. Come dicevo prima al suo collega, ho trovato veramente un ambiente straordinario, di una grande disponibilità da parte di tutti e anche grandi competenze. Eccoci qua amici, bentrovati anche oggi sul mio canale, oggi in esterna sono alla continassa perché nel pomeriggio ho partecipato alla conferenza stampa di presentazione di Cristiano Giuntoli, era presente sostanzialmente tutta la dirigenza della Juventus, in prima fila il presidente Gianluca Ferrero, l'amministratore delegato Maurizio Scanavino, dunque il responsabile dell'area sportiva Francesco Calvo e Giovanni Manna, responsabile della prima squadra, così come Federico Cherubini che si occupa dei progetti di sviluppo in ambito sportivo per il club bianco-nero. Ha parlato Cristiano Giuntoli, si è presentato, ha ringraziato prima di tutto il presidente dell'Aurentis per averlo sostanzialmente liberato un anno prima rispetto alla scadenza del suo contratto, che legava il direttore a Napoli fino al 30 giugno 2024, ha toccato diversi temi, credo abbia detto anche diverse bugie, ma ci sta nel senso che comunque non poteva chiaramente svelare tutte le strategie relative al mercato, ha fatto capire che di fronte a delle offerte congure che sappiamo possono arrivare sia per Chiesa che per Vlaovic, per quanto entrambi siano tecnicamente incedibili, la Juve oggi ha il dovere di ascoltare queste offerte perché c'è da sistemare i conti, anzi ha detto dobbiamo dare una sistematina ai conti e di questo non possiamo farne segreto, di conseguenza sia Vlaovic che Chiesa rischiano la cessione in questa sessione estiva di calcio mercato, poi capiremo quando, capiremo bene i tempi perché è venerdì, la squadra si trasferirà negli Stati Uniti dove sono in programma le prime amichevoli di questa nuova stagione contro Barcellona, Milan e Real Madrid, la sensazione che la Juve qualcosa voglia fare già prima della partenza in America, capiremo però da qui alle prossime ore se riuscirà in questo intento. Sappiamo che su Vlaovic c'è l'interesse del Paris Saint-Germain ma ci può essere anche l'interesse di altri club della Premier League, sappiamo che è un giocatore che in questa fase può muovere il mercato e che la Juve sostanzialmente non spinge alla porta ma lo considera tra quelli che prima degli altri possono lasciare Torino, anche perché Massimiliano Allegri ha messo gli occhi su Romelu Lukaku che potrebbe essere l'innesto per il nuovo attacco della Juventus, potrebbe essere l'uomo giusto stando a quella che è la sua idea di calcio. Su Lukaku l'Inter ha fatto un passo indietro, la Juve ne vorrebbe fare uno in avanti ma non può farlo fino a quando il posto o in attacco non sarà liberato appunto da Vlaovic che sarà ceduto per non meno di 80 milioni. Anche qui giuntoli in conferenza stampa si è smarcato bene dalla diretta domanda, ha detto non faccio numeri però ha parlato della possibilità di fare delle cessioni importanti di fronte a delle offerte irrinunciabili. Giuntoli che ha fatto passare alcuni concetti molto precisi, parliamo di Massimiliano Allegri, ha detto tra tutti i talenti che abbiamo in questa Juventus, lui è il più talentuoso, credo abbia voluto far passare un messaggio forte circa la fiducia che tutta la società bianconera ha nei confronti dell'allenatore, stando anche un po' in contrapposizione alle tante voci che sono circolate negli ultimi mesi, nelle ultime settimane in particolare. Sappiamo che la conferma di Allegri ha diviso per tanto tempo i tifosi della Juventus, credo invece giuntoli abbia voluto dare un segnale netto circa la fiducia che non solo a lui, ma tutta la dirigenza presente in sala stampa nei confronti dell'allenatore. Così come ha voluto specificare che non sarà la Juve di Giuntoli, così come non sarà la Juve di Allegri, la Juve di Manna ma sarà la Juve bassa, sarà la Juve a prendere delle decisioni e credo in questo senso abbia fatto passare un messaggio velato circa la volontà di aver messo fuori Rosa Leonardo Bonucci, colui che fino a qualche giorno fa era il capitano della squadra. Giuntoli ha detto che qualsiasi decisione che viene comunicata ufficialmente rappresenta l'idea di tutti i dirigenti e non solo dell'allenatore, credo in questo senso abbia voluto far passare il messaggio che per quanto sia stata una scelta tecnica ovviamente la scelta di mettere fuori Leonardo Bonucci non è stata solo di Massimiliano Allegri ma è stata condivisa dall'intera dirigenza. Dobbiamo fare un passo indietro, dobbiamo tornare a quello che Giuntoli disse ai canali del club al suo arrivo, cioè l'idea di mettere assieme tante teste ma un solo cuore e questa volontà di unire e creare una sintesi all'interno della Juventus credo sia passata abbastanza nel corso di questa prima conferenza stampa. Per il resto sui giovani credo Giuntoli abbia fatto un passaggio piuttosto significativo nel dire che Allegri vuole dare continuità a coloro che ha già valorizzato nella passata stagione, sono tutti ragazzi che sono passati dal progetto Under 23 che potrebbero trovare ancora più continuità in questa nuova stagione nella Juventus, mi aspetto invece un mercato mirato sui giocatori d'esperienza. In questo senso oltre al nome di Lukaku per l'attacco credo sia giusto tenere sott'occhio che sì del Barcellona, la Juve vorrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto, dargli la possibilità di essere un protagonista della nuova stagione juventina ma tenersi anche con le mani libere rispetto ad un impegno di natura economica. Questo perché credo l'altro assist ci arrivi dalla decisione di reintegrare nel gruppo squadra McKennie. Ecco, oggi Pogba non è ancora pronto per rientrare in gruppo per quanto la Juve ad un certo punto volesse rimetterlo insieme ai compagni prima della partenza per la tournée. Non è così, evidentemente il giocatore non è ancora vicino a poter sopportare i ritmi per stare al pari con i compagni. Pogba andrà in America, andrà in tournée, farà diverse attività ma ancora oggi deve continuare ad osservare un programma individuale o comunque semi-individuale. Ecco, in questo senso quello a buco a centrocampo viene riempito da McKennie che non si allena più con gli esuberi ma va ad allenarsi col gruppo prima squadra pur rimanendo sul mercato. La Juve lo cederà da qui a fine della sessione estiva in prestito se non ci saranno altre opportunità per cederlo a titolo definitivo ma appunto quel posto a centrocampo non si risolvesse la situazione Pogba che resta potenzialmente in uscita viste comunque le sirene arabe ancora attive sul suo conto. Ecco, l'idea di mettere dentro un altro centrocampista importante ed esperienza come che sì, non solo è valida ma credo la Juve ci stia riflettendo e si stia muovendo in quel senso lì. Insomma, ditemi voi nei commenti cosa ne pensate di questa prima conferenza stampa di Cristiano Giuntoli come vi è sembrato, cosa vi è arrivato dalle sue prime parole da dirigente della Juventus. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti.